Da lì sei diventato amico di Einaudi o fan di Einaudi, com'è questa cosa? Cioè io da tanto volevo andare al concerto perché per me lui è il numero uno. Certo. Cioè non c'è nessuno che riesce a colpirmi così tanto con la musica, ma non riuscivo mai perché a Roma facevo sempre a giugno quando non c'ero. Poi quando sono venuto a Milano, qui a Milano ogni anno fa 15 concerti a dicembre. Quindi potevo andare, mi ricordo il primo concerto che mi sono preso i biglietti, ma era già sold out, quindi era difficilissimo da trovare. Avevo dei posti non bellissimi diciamo, dietro un vetro e non si vedeva bene. Io mi sono chiesto come faccio perché comunque faceva 15 giornate, serata. Poi qualcuno dell'Inter ha scritto proprio al teatro e così sono riuscito a... Ma non un compagno, qualcuno della società dice? Della società, sì sì. Che è in tuoi scagnozzi. Sì, e così sono riuscito a trovare dei biglietti migliori anche con i biglietti per la... Diciamo dopo concerto, una saletta dove andavano e poi quelli che suonano con lui, uno di loro era interista e ci siamo conosciuti là. Mi ha riconosciuto? Sì, sì, mi ha riconosciuto, abbiamo parlato e così ho conosciuto anche Einaudi. E cosa gli hai detto? Perché noi abbiamo sempre in testa che noi fan dei calciatori andiamo dai calciatori e siamo tutti emozionati così. Il calciatore quando si emoziona cosa dice? Sì, inizialmente li ho ringraziati per la sua musica, che è quello che mi ha dato, le sue emozioni. Poi mi ricordo che Redi si chiama, che suona il cello, che mi fa, dai quando vuoi vieni. E io faccio, ma sei sicuro che vengo sempre? Poi sono andato sempre, ci siamo visti tante volte là e così è nato questo rapporto.